E scappate una volta che arriva, evidentemente è un pappagallo di libertà, non vuol stare con Don Armando. Mi so, permettete, un pensiero poetico per l'occasione, a libertà, a libertà, puro Pappavalle l'ha da provare. Eh, perché stai? La libertà di informazione deve essere difesa. Mi so, permettete, un pensiero poetico per l'occasione, a libertà, a libertà, a libertà, puro Pappavalle l'ha da provare. I giornalisti che, a motivo della professionalità e deontologia, che caratterizzano la funzione, come l'ha poc'anzi ricordato, Presidente Di Fonzo, devono agire con indipendenza e con rigore per alimentare credibilità e fiducia. Mi so, permettete, un pensiero poetico per l'occasione, a libertà, a libertà, puro Pappavalle, Pappavalle, l'ha da provare. Eh, perché stai?